La prognosi resta ancora riservata, ma i menici finalmente iniziano a sbilanciarsi parlando dei miglioramenti del comico Bruno Areni Nella nuova clinica di riabilitazione, in cui è stato trasferito lo scorso lunedì 11 febbraio, infatti, ha iniziato a fare i primi grandi progressi, prima gli occhi, poi le braccia ed infine le mani Due mesi di coma non hanno di certo cancellato la voglia di ridere e scherzare di Bruno, appena aperti gli occhi ha battuto il 5 al suo gemello Max Cavallari quando ha preso la notizia del suo risveglio e ha forso alla clinica Ma l'altra sera ha riservato una stretta di mano ed un sorriso anche per Massimo Zoli, di Riddance Managut, come a dire sono tornato e sono felice che mi stiate tutti così vicini Zoli ha scherzosamente dichiarato di essere stato geloso della stretta di mano riservata per primo a Cavallari L'attenzione dei fan cresce a dismisura, si attende con sempre più ansia lo scioglimento della prognosità Document.orai. Vaccina triste, Bruno Arenda